Ah, che meraviglia! Venire all'arte del riposo! La più grande esposizione di materassi del territorio che oggi si arricchisce di uno spazio in più. Materassi di varie tipologie, reti e doghi in legno, guanciali di alta qualità e tutto quello che occorre per avere un riposo perfetto. Tutti i prodotti sono realizzati artigianalmente sul posto con materie prime e mano d'opera locale. Inoltre, professionisti e esperti a darmi sempre il giusto consiglio. L'arte del riposo. Dormire bene e sentirsi bene.